20 protocolli di intesa firmati con gli enti del terzo settore a vantaggio dell'invecchiamento e della logevità attiva. Il tutto nell'ottica della garanzia del diritto alla cittadinanza sociale e sanitaria. E questo, in sintesi, il nucleo del progetto, nato da un avviso pubblico dell'assessorato al welfare della Regione Puglia, è realizzato per mezzo dell'Ares, l'Agenzia Strategica per la Salute e il Sociale della Regione. Alle associazioni partecipanti sarà affidato il compito di realizzare attività di formazione per permettere agli anziani di abbattere la barriera digitale, imparando a navigare su internet, a prenotare visite mediche, a consultare i siti di Puglia Salute e Puglia Sociale, per favorire in questo modo l'avanzare dell'età in maniera autonoma e consapevole. L'invecchiamento attivo per cui la Regione Puglia è considerata dall'Europa come sito di riferimento proprio per le misure che nel tempo abbiamo adottato nei confronti dell'invecchiamento attivo, quindi di un'attività e un'attenzione verso la fascia un po' più avanti di età, che come sapete sarà sempre più numerosa anche per le previsioni Istat. Un'alfabetizzazione digitale che rientra in una strategia complessiva di gestione di un tema sociale di grande interesse per la Puglia. La Regione infatti presenta una curva di invecchiamento superiore alla media di una nazione che già di per sé è annoverata tra le più anziane. Da qui l'esigenza di mettere in campo una serie di azioni per mettere a valore la risorsa della terza età. L'iniziativa rientra nel più ampio quadro della strategia regionale di reference site europeo anche sull'invecchiamento attivo e in salute. Seguiranno altre iniziative per quella che viene detta alfabetizzazione digitale. Questa è una prima molto concreta e nei fatti, che utilizza in maniera intelligente e razionale il contributo delle associazioni, dei volontariati e del terzo settore che hanno una prossimità e una confidenza con i problemi reali molto più efficaci di quella che può avere una struttura regionale.